Senti Salvatore, prima di parlare con te della Serie B, vogliamo ascoltare, restiamo in un certo senso in tema mercato, le parole di Sorrentino, perché vi ricorderete che quest'estate Sorrentino dal Chievo doveva passare al Genoa, poi il Genoa ha preso Edoardo e allora è arrivato anche il commento del portiere. Io penso solamente al Chievo e al Genoa, penso solamente come squadra da affrontare domenica, mi dispiace per il collega Edoardo che non conosco, però secondo me intorno a lui ci sono un po' troppe critiche, un po' troppe parole dette in maniera sconsiderata. Il Genoa ha la difesa migliore del campionato, Edoardo è il portiere nazionale portoghese, ha fatto i mondiali, non penso che all'improvviso sia diventato scarso tutto di un colpo.